. La Marcuzzi condanna Eva Enger, non mi è piaciuto, la visibilità incattivisce le persone. In foto, credits, frezza la fata, ipa. . Dopo giorni di silenzio, Alessia Marcuzzi ha deciso di dire pubblicamente la sua a proposito di quanto accaduto all'isola dei famosi tra Eva Enger e Francesco Monte. . Che non le fosse piaciuto l'atteggiamento della naufraga lo si era intuito già nel corso della puntata del reality andata in onda lunedì 5 febbraio, quando la Marcuzzi ha condotto con una certa freddezza l'intervista con l'ultima eliminata dell'isola dei famosi. . Oggi, via Instagram, carisce i motivi del suo atteggiamento in risposta a quanti la accusano di avere trattato male l'argomento e, soprattutto, cercato di far passare la Enger da colpevole al posto di Monte. . Non mi è piaciuto il suo modo di fare. . Dovevo fingere? Mai. . . Sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro con onestà da 25 anni. . Non so fingere, il suo modo di fare non mi è piaciuto. . Se io avessi avuto fastidio rispetto a qualcosa, lo avrei detto dal primo giorno alla produzione e non sarei nemmeno salita su quel pulmino di cui parla lei. . Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. . A, la visibilità e quanto può incattivire le persone. . L'argomento monte, Enger non sarà più affrontato. . . In un altro commento sempre postato su social, Alessia anticipa che l'argomento in questione non sarà mai più affrontato. . Attribuendo alla Enger la volontà di mettersi in mostra, comunica che non si presterà al gioco nel corso di altre occasioni, non ne parlerò più, neanche in puntata. . . Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò. . 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